Il controllo dei Rothschild. Lista delle banche in possesso e sotto il controllo dei Rothschild. Un numero sempre maggiore di persone comincia a capire che il 99% della popolazione mondiale è controllata da un'elite della percentuale rimanente. Ma chi controlla questa elite del 1%? È solo una teoria cospiratoria a rifilare questo ruolo alla famiglia Rothschild? Perché la famiglia Rothschild dovrebbe letteralmente dominare tutto, persino l'1% di elite? Consideriamo quindi questa ipotesi alla luce della seguente lista. Per lo meno questa lista dovrebbe essere inconfruttabile. Sono documentate solo le banche in possesso e sotto il controllo dei Rothschild. Allacciate le cinture e via. Allacciate le cinture e via. Allacciate le cinture e via. Grazie a tutti. 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 Morgan, indipendente e sovrano, noto come City of London. Quest'altra corona è composta da un comitato di 12 banche guidate dalla Bank of England. E indovinate un po' chi controlla la Bank of England? Proprio così, i Rothschild. Nel 1815 Nathan Meyer Rothschild disse «Non mi importa quale burattino è posto sul trono d'Inghilterra, il regno dove il sole non tramonta mai, l'uomo che controlla il volume monetario britannico controlla l'impero britannico e io controllo il volume monetario britannico». Quindi non è solo una teoria complottista che la casa dei Rothschild sia effettivamente in cima alla piramide del potere. Ricercando approfonditamente li si scopre come burattinai del nuovo ordine mondiale e come completa supremazia di un'agenda mondiale. Stanno dietro all'Unione Europea, all'Euro e stanno dietro all'idea dell'Unione Nordamericana e dell'Amero. Controllano tutti i servizi segreti del mondo e il loro esercito privato è la Nato. di un'agenda mondiale. Grazie. 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 Grazie.